Ciao a tutti, sono Michele Marelli, mi è stato chiesto di registrare un breve video per raccontare come io stia trascorrendo questo periodo di pandemia e come molti di voi musicisti lo sto facendo in famiglia a studiare. La mia però è una famiglia molto particolare e ve la voglio presentare, ecco a voi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.